Oggi per carità ci sono degli attori bravi, ma io vedo nei giovani di oggi questa mia tenacia non esiste più, cioè è tutto più raccogliticcio, tutto più, siccome si sa correre, 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 questi ragazzi arrivano e non gli viene proprio, a parte che le sale ai tempi miei erano degli eliporto, per cui addirittura si fumava all'epoca, io mi ricordo ancora quelle belle volute di fumo che si alzavano inquadrata dal proiettore, oggi per carità se lo fai chiamano il ministero della sanità e le sale sono ridotte a degli antibagni, quindi magari non c'è nemmeno lo spazio, però vedo che i giovani sono meno intenzionati, è più un modo di stare lì, prendere il turno, fare, ma a parole vogliono, però dopo se tu gli li, no, gli vanno motivati, vanno motivati, motivati. Oggi c'è sicuramente, io lo posso dire, c'è uno scadimento rispetto al periodo che io sono stato così fortunato di vivere, perché è cambiato tutto, c'è una crisi generale e va bene, ma è cambiato proprio il modo di approccio, oggi conta molto di più il film videoclip, anziché il film col contenuto, per cui ti capita spessissimo di sentirti dire che questo film è molto bello, ma non farà una lira, quindi bisogna spendere 0 euro, e allora tu dici ma come lo curo? Non so, la risposta è non so. Gli attori, quelli della mia generazione e quelli subito dopo, noi venivamo tutti dal teatro, tutti, di conseguenza per noi era usare un termine, una cosa tecnica e mettere il nostro più o meno presunto talento al servizio del film. Imparavi la tecnica, cioè a fare la pausa con lui, a ridere con lui, ma le cose ce le avevi. Oggi c'è stato un momento in cui quando sono arrivate le tene novele e lì bastava che chiunque alitasse, lo mettevano davanti a un microfono perché c'era un tale bisogno disperato di voci che il primo che passava dal tassista al pizzaiolo andava subito. Ora si sta tornando un pochino, i giovani incominciano di nuovo a fare delle scuole, però quando mi chiedono per esempio consigli su una scuola di doppiaggio, io rispondo immediatamente una scuola di recitazione, cioè il doppiaggio lo impari dopo, ma devi imparare a recitare, o meglio devi nascere con un minimo di talento che può essere coltivato, portato avanti per carità, però è da lì che si parte, si parte dalla recitazione e dopo si impara a ridere insieme a lui, a fare la pausa insieme a lui, tanto c'è sempre qualcuno che tecnicamente te le mette a posto le cose, non è poi difficilissimo, è difficilissimo doppiare benissimo, ma doppiare mediamente non è difficile. è sicuramente un lavoro che impari facendo, perché la pratica è fondamentale, qui stiamo parlando degli attori ovviamente, come secondo me è importante anche per quanto riguarda lo scrivere, i dialoghi, è una cosa che tu affini, perché i dialoghi dovrebbero avere questo di fondamentale, a parte essere scritti secondo lo spirito del film, con i termini giusti per quel film, vuoi per l'epoca, vuoi per i personaggi, l'avvocato non può parlare come il camionista, il fruttivendolo non può parlare come il Presidente della Repubblica, almeno in teoria, ma devono avere questo e soprattutto devono essere fatti tecnicamente bene, il che vuol dire che devono andare a ritmo, cioè se quello parla veloce tu devi mettere quel numero di parole, con le pause e tutto il resto se parla lento o uguale, e fare in modo che le labiali, le famose maledette labiali coincidano. Se tu scrivi un buon dialogo in questo senso, gli attori sono avvantaggiatissimi, perché vanno in sala e non devono combattere con la lunghezza sbagliata, con l'appoggiatura che non corrisponde alle intenzioni, eccetera, e quindi se è scritto male loro hanno più difficoltà e quindi anche il direttore, il direttore vabbè poi lasciamo perdere, il direttore dovrebbe essere una persona, infatti io non volevo fare direttore all'inizio, perché ero convinto che per fare il direttore occorresse un pizzico di cultura, avere un po' di sensibilità per capire il prodotto che è davanti, che tipo di prodotto è, riuscire a parlare con gli attori, a far capire che cosa vuoi dagli attori, è importante perché se un attore non capisce non può, ed è fondamentale che un attore si debba fidare di te, se tra te l'attore si stabilisce un rapporto di fiducia ti seguirà fino alla morte, se non si fida e gli attori sono, lo dico nel senso migliore del termine, delle bestie, degli animali, cioè vanno a istinto, istintivamente un attore sa se può o non può affidarsi, basta poco, basta nei primi dieci minuti, dopodiché capisce se è il caso di, se fanno resistenza tu non vai da nessuna parte, quindi i direttori dovrebbero avere molta più, però siamo lì, io avevo più tempo a disposizione, ho combattuto tutta la vita per avere più tempo, ho rischiato l'impopolarità più sovrana, ho rischiato di, molti film non li ho fatti perché mi sono rifiutato, vuoi per i tempi che mancavano, per i soldi che mancavano, perché volevano impormi delle voci che non mi andavano bene, però secondo me uno dovrebbe, proprio per rispetto di se stessi, per degnità del proprio lavoro, dovrebbe avere la capacità di dire no, puntare i piedi, tentare, se tu non provi a ribellarti non accadrà mai nulla, ma qual è questo dottore di lavoro che ti dice ti do 10 mila euro in più per fare questo film, ma nemmeno sotto le torture. Ma io vorrei salutare le persone che magari ignorando che io fossi coinvolto hanno gradito in questi anni i film che io ho fatto, quelli che hanno sancito in qualche modo una parte del mio essere arrivato fin qui, quindi io sono particolarmente grato a quel tipo di pubblico, di spettatori che ho scoperto che poi man mano nel tempo hanno imparato pure che io esistevo, nel senso che hanno letto quando c'erano i titoli di coda e hanno riconosciuto il mio nome e sono diventati un pochino più, non dico, degli amici, ma insomma degli estimatori. Ecco io loro li saluto sempre con grande, grandissimo affetto, non parliamo degli estimatori di Harry Potter e di Gollum che da anni mi seguono dovunque, quindi io vorrei salutare loro e dire grazie, grazie per avermi seguito, avermi apprezzato perché apprezzandomi mi avete dato la possibilità di andare avanti e quindi grazie, grazie ancora, arrivederci, ciao a tutti.